Cremona a Parigi ci sarà. Nei giochi olimpici in Francia anche quattro atleti cremonesi a gareggiare con colleghi provenienti da tutto il mondo. Fausto Desalu, velocista, che nell'ultima Olimpiade non aveva avuto risultati importanti ma che nell'ultimo periodo sta mostrando di nuovo la sua forza, tornerà per l'edizione 2024. Altro volto non nuovo delle scorse Olimpiadi è quello di Giacomo Gentili che parte tra i favoriti nelle quattro di coppia dopo la beffa del quinto posto di Tokyo quando loro sembrava la portata. Classe 1997, Gentili nel 2015, è stato medaglia d'oro juniore, sei mondiali agli europei del singolo, per poi passare al quattro di coppia nella categoria assoluta vincendo il titolo di campione d'Europa e del mondo nel 2018. Prima volta assoluta invece per Miriam Vece nel ciclismo e per Sveva Gerevini nell'atletica. La prima ha 27 anni ed è nata a Crema nel 2020 ai mondiali di Berlino ha vinto il bronzo nella 500 metri a cronometro ed è diventata la prima italiana nella storia a salire sul podio iridiato in questa specialità. Infine Gerevini, di un anno più vecchia, lo scorso giugno ha chiuso la sesta agli europei di Roma facendo cadere dopo 25 anni il record italiano di Gertrude Baker. Ora si attende l'inaugurazione delle Olimpiadi prevista per venerdì.